E dopo ti do una mano a vendere i tuoi? E' questo? E' il M7 Sergio viva questo Dash Houd Mi vuoi la macchina? No, veloce No, fai guidare Sergio Più almeno aumenta la guida Il Dash Houd, aspetta Ecco il fatto, aspetta Ah no 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 Ok Sergio Facciamo una cosa in pressa, voglio Oh mio figlio Come ti do? Dobbiamo andare a secondi piano Sperchiamo in schifo Machro vidum chido Oh no, tu sei dietro, tu sei dietro Cristo Dio, via Via, 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 via di qua Oh fermati Oh, scama donna Qua devi bestemmiare il russo, Sergio Aspetta un attimo Non era russo Cos'era? Non so, tedesco forse Ah lui parla, non sa neanche che lingua parla Come i discepoli Che andavano in giro per il mondo E parlavano anche se non sapevano che lingua parlavano Andiamocene, voglio Dio il tredicesimo di scelte per la volta Nooo Cazzo Oh io, che mi ha pulito tutto qua Tra poco mi chiamano il movimento Eh vai che questi sono un po' più Sono un pochino più forti eh Eh sì Sì Questi sono gli uomini di Salastano Sì, cioè, era largo eh Il cancello Tu hai dovuto spigliare la piglia Allora, mi fa entrare qua Bene, andiamo a caricare un po' qua di puttana Dai, su Dai, dai, dai Vabbè dai Vabbè dai Voi cazzo vostro Eh eh Posso di sergi Eh eh Ma ti fa entrare? No, non è quello Eh, però no, ma Dio vuolo che robo che ho Richiamano Richiamano, è l'unica Cazzo, io ho fatto un'altra strada Che mi avevano inseguito E te ne sono compariti altri lì No, non è quello Sto sparandolo Il tuo veicolo speciale è già disponibile Speriamo che sia il tuo gradimento Guardi È talmente il mio gradimento Che adesso gli sparo un missile Le bombe Deve riuscire a salire, no? Gimmban Brest Perché ho paura che No, 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 no Ma tutti e tre Perché nella mia ho paura che Sì No Eh, deve entrare qualcuno intanto Sto avanti Adesso il telefono per il Dachau Lui vuoi vedere che lo smette dall'altra parte Vado a vedere se ti fai entrare adesso Vado a vedere Jack No, dietro Vado a vedere Vai, entra così che vado e sto sul tetto io Ottimo Già disponibile per il ritiro Vado a vedere Vado a vedere Vai, fallo cadere, va Va bene Buona Grande Vediamo se si fa entrare tutti dentro Sì 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 Toccando mi sta figlio di puttani Ne abbiamo fregati Ma vado che questo è incazzato Uno un po' più sportivo non c'era Un veicolo più sportivo È incazzato questo Mi hanno sparato Scusa E' 82 GTA Unito in real sessione No, non venire a rompere le palle Midori Parco dio No, non è terrore non ho voglia sei in una sessione da solo proprio per quello mettimi la mappa Sergio ha fatto due livelli eri 19 quando sei entrato bene si stava superando la mia segretaria sportivo però analizzarsi la minchia professore democratico a posto esci Sergio oh cosa prendi? buzzard? si aspetta scendo ok 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 unito la c'è da rogione ma andiamo al piano terra così almeno per te oh ma i mi dici seggio la cassa andavano crem ecco devo ancora piove già c'è te veniamo a piove stasera un pochino non ci vedono siamo invisibili al radar che ho una cassa di uno oggi putta è una cassa delle casse ah ok pazzesco che è tazzesco cosa? non lo sto aspettando proprio io voglio vero uscire ma anche noi ma io era una cassa riletto rp più 200 rp per il viaggio e la petroniera del pool ah sposa quando arrivamo vicino eh adesso questo l'hanno visto guida a te per basta ma lo troppo eri 96? io ero 96 e mi mancava pochissimo e sei già quasi 98 porca puttana 3 minuti alla gita turistica della città di Lourdes quello sbombi tutto e puttana non sai come se è polla oh 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 allora iniziamo a fare le manette tutti e tre un po' a turno un giorno non dobbiamo fare tutti una gita con turno siete riusciti a caricare le troie? eh no perchè in una salita ho capottato il pulmo e non riuscivo a più a drizzarlo insomma la cosa più bella è che mi ha colpito di lavoro fermati fermati dobbiamo trovare un elicottero fermati vediamo se qualcuno può chiamare piano ignorante questo piano stinger vai con il nudo col camion vai con il nudo bastardo dai copioni eh ah non so se riesci ah non so se riesci più buono anche il passato ah cecchinate cazzo raga cosa sto cecchinando? vabbè cecchino vabbè cecchino vabbè cecchino vabbè carica la usiamo sosta ecco ma drifto drifto col pullman qualche coppa macchina voglio eh non riusciammi a prenderla ecco vai vai una montagna dobbiamo far comparire un elicottero un elicottero ma ascolta fai una bella roba levati dai coglioni con la macchina levati dai coglioni con la macchina vai via ciao jack chiamati l'elicottero e sto vedendo il qualsiasi quando mi esci era meglio una function moto enduro se si può avere un solo veicolo CEO ah ecco perché fai esplodere quella roba fai esplodere quella roba no fai esplodere che manca il tempo fai esplodere vai non sanno come stanno i miniatoni fai fai dove stanno le bagarre non hai lì poi lì dobbiamo cercare quelle che stanno in mezzo alla strada bo vai ti piace colore? non me lo da tra un minuto aspetta che ora so hai chiesto alle 5 e presto venga a prenderti eh lo so ma lo pigliamo lo pigliamo guarda mo come si accappottavano in prestatura no 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 vedi di prendere quel pezzo di merda che sta scappando quello che cos'è una strada vai Sergio rosola guarda su due ruote curva su due ruote guarda eh allora ricordiamoci prima Ale si piglia sempre il buzzard e gli altri veicoli sono personali tipo ecuruma guarda che c'è il dirupo Sergio allora finito Sergio oh perchè so mi sta facendo spruzzo vuole andare a fare con un'amica qualche altro puttino stavolta non te lo posso fregare io perchè non c'è due si vabbè prendiamo il treno eh oh raga cioè non era facile eh no questo mi è venuto addosso in macchina ti rendi conto è normale c'è solo in faccia non ti vedo ma porco dio è arrivato in macchina e ero con l'elicottero che ero in mezzo alla strada ma è scemo ecco questo sei tu mio dio povero no 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 go veloce 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 mincher l'avete distrutto l'elicottero di un bastardo ahahahah ok scusa non lo puoi far fallito ma questo è dritto io io non posso ebay e posto che è quello conto che amico no ho preso fuoco ho visto di subito o quando la lista però ho fatto un'altra oh abbiamo quattro minuti e mezzo eh minchia Jack vai a destra tu sento me che anzi ma sto fumando se devo dire che era un simbolo ma va a fanculo scherzo se due già sono mie se due Jack arrivo con la kuruma si vieni questa che ti piace senti forte Sergio si sono fatti oh rallenta rallenta eccola vai 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 ce vado io ce vado io come la fa a fare è la madonna che qua come me per rinciulare ci avete fatto o no uh 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 minchia c'è l'insurgent questi eravate da un mento moon no non sono gli insurgent sono i giapponi quelli o ragazzi ma stai sparando io vabbè no ma sulla kuruma cosa serve sparare vabbè vabbè mi metto a posto io la kurumina hai visto Sergio se non c'era la kuruma adesso che cazzo io ce l'ho sparato io sincronizzare il ceo chiusi si è venuto 5 drink sto guardando si ubriaca sei modato ma va fa in culo modato c'ha il doppio dell'ubriacatura e il doppio dello sballo devi bere il doppio non l'hai letto nei listini dei model che c'è ubriacatura doppia dai puttana dammi da bere mono